Pugno duro nel comune di Rosseto degli Abruzzi nei confronti dei proprietari dei cani che non provvedono a raccogliere le deiezioni dei loro animali. Dopo una prima campagna di sensibilizzazione con manifesti e locandini, il comune costiero ha iniziato con le contravvenzioni ai padroni indisciplinati. Controlli a tappeto da parte degli uomini delle guardie ambientali e agenti di polizia municipale. Multe salate per chi non sarà in regola che vanno dai 75 ai 450 euro. Cioè chi abbandona escrementi di cani oppure chi non usa la moseruola per cani di grossa taglia oppure chi non è in regola con il microchip purtroppo starà sanzionato. Noi abbiamo cercato di far di tutto per avvisare tutti i cittadini. Chiaro che chi è abituato a comportarsi in un certo modo, cambiare dall'oggi al domani è una cosa anche difficile. Quindi portarli al cambiamento in un modo fisiologico con degli avvisi, ulteriori avvisi, io mi sembra che sia la cosa migliore. Però dopo questo è chiaro che noi non ci possiamo sentire colpevoli di maltrattare i cittadini rosedani per magari delle multe che facciamo su delle cose che non si possono fare. Ma non si possono fare da anni con delle leggi. Vedo che tutti i condenitori che noi abbiamo messo sul territorio sono vuoti, forse molti non li usano perché quelli erano un di più per chi magari dimenticava la bustina a casa. Io voglio avvisare chi li vuota che quelli non possono essere utilizzati per congelare carne e metterla al congelatore. Cioè sono esclusivamente per escrementi di cane, solamente per questo uso qui. Quindi invito chi magari se le riporta a casa di lasciare le supposizioni che potrebbero essere utili a qualcun altro.